Oh 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 ragazzi, mi chiamano ragionare? Ma chi sei? A mezza maggio esce il disco nuovo di Blevo Ma chi è? Chi è? Lupe Lupe Chi è il Blevo ragazzi? Come chi è il Blevo? Chi è? Ma come chi è il Blevo? Chi è il Blevo? Chi è il Blevo? Chi è il Blevo? Eh? Il che ti ha detto? Chi è il Blevo? Chi è il Blevo? Insomma figlioli, ve l'hanno detto anche loro uscirà l'album e il video nuovo Ehm... Mi bravo! E vabbè non ricompro un altro soldi dell'album No Il mio! E' andato E niente praticamente uscirà appunto l'album e il video insieme Via Verse Improbabili Avventure Chi non ha niente da nascondere Non sente il dovere di dire Io non ho niente da nascondere Figlioli ci siamo Ci siamo eh Ehi che ci siamo Batte 5 Figlioli ci siamo Ciao Bellino Ciao Dopo quasi due anni di lavoro uscirà fuori il mio nuovo album Via Un altro? Si Quelli hai fatto usci tre, basta Allora questo è il quarto Quarto album Quarto album Si chiama la Via Verso Improbabili Avventure E' composto da 17 brani Più due canzoni richieste da parte vostra E comunque una sorpresa vedrete poi Il CD dell'album ovviamente potete trovarlo su iTunes, Spotify e poi potete trovare appunto anche il CD fisico in tutte le serate quando andrò a presentarlo, quando mi chiameranno, se mi chiameranno Insomma esce il suo nuovo album Via Verso Improbabili Avventure Improbabili? Verso Improbabili Avventure Quarto album del Blebla E mi raccomando uscirà il video a metà maggio appunto via Verso Improbabili Avventure e compratelo, scaricatelo, rubatelo Parli la telecamera Parli la telecamera Ormai ero più bellino lì magari ha detto